Io ho fatto l'opera di metalmeccanico per circa 27 anni e oggi non lo faccio più, grazie a questo Anna Maria e Iosep per i loro insegnamenti, grazie a loro sono uscito dai debiti, avevo circa 20.000 euro di debito, adesso ho dissoldo tutto, adesso mi sto inviando ad essere un libro professionista, sempre grazie ai loro insegnamenti. Grazie a tutti.